Duro l'attacco della CISL universitaria che accusa i vertici di non aver gestito bene l'allerta neve. Una governance che si fa trovare impreparata nel primo giorno di vero maltempo non è degna di guidare un'università che si vanta di essere una delle migliori del mezzogiorno d'Italia e di sfidare i migliori atenei d'Europa. Lo dichiara in una nota pasquale Passamano responsabile provinciale CISL dell'Università di Salerno dopo la chiusura forzata di ieri a causa dei cumuli di neve che hanno bloccato studenti e lavoratori diretti al campus per ore sulle autostrade A3 e A30 e sul raccordo autostradale. Probabilmente, continua Passamano, negli ultimi giorni non hanno avuto la possibilità di seguire i telegiornali o altri organi di informazione per rendersi conto di quello che stava per succedere nel nostro paese e più in particolare sul nostro territorio.